ok allora continuiamo sempre con il mazdeismo e ero rimasto alle leggende sulla vita di zarathustra di cui non abbiamo nessuna notizia storica certa come per altri fondatori di religioni come per mose come per cristo e come per buddha nella misura in cui si considera il buddismo una religione ma magari qualcuno potrebbe non essere d'accordo e dunque noi semplicemente possiamo analizzare le leggende che lo riguardano e allora come ho detto la rivelazione a zarathustra zoroastro avvenne all'età di 30 anni e già lì assomiglia molto a cristo come figura perché appunto anche cristo ricevette secondo la tradizione il battesimo dello spirito santo all'età di 30 anni lo spirito santo discese su di lui mentre si bagnava nelle acque del giordano e il battista appunto giovanni battista lo battizzava e zarathustra però non è il figlio di dio non è mai stato considerato tale è sempre stato considerato solo un profeta un profeta e a quanto ne so io non gli vengono neanche attribuiti dei miracoli semplicemente gli viene attribuita la predicazione per la prima volta dell'unico dio Aura Mazda e gli vengono attribuite appunto determinate dottrine che lui aveva propagato cioè dopo la rivelazione avvenuta all'età di 30 anni in cui è stato come dire rapito in cielo non si capisce se con il corpo semplicemente è stato un rapimento dello spirito per cui è stato come dire una visione un viaggio spirituale metafisico nell'aldilà e non è ben chiaro comunque tornato sulla terra diciamo comincia a predicare il messaggio che gli ha dato Aura Mazda allora innanzitutto com'è questo dio Aura Mazda ho detto è il dio unico secondo la religione mazdea e il suo nome significa letteralmente signore saggezza signore saggezza viene tradotto come signore saggio normalmente noi in italiano lo possiamo tradurre come signore saggio in inglese viene tradotto come wise lord appunto anche lì wise saggio signore lord signore il termine Aura Aura è un antichissimo termine appunto indo-europeo indo-iranico che è legato allo scandinavo Aesir che indica appunto gli dei di Asgard e anche al termine Asura il termine Asura è un termine appunto che si trova nella mitologia indiana gli Asura sono delle divinità ctonie diciamo delle divinità degli inferi che combattono contro i Deva le divinità celesti più o meno come i titani combattevano contro gli dei dell'Olimpo e rappresenterebbero appunto le divinità che sono state sconfitte cioè ci sono questi due gruppi di divinità i Deva e gli Asura nella cultura indiana alla fine il culto dei Deva è risultato quello vincente i Deva cioè i Divi potremmo dire noi usando una parola latina perché Deva è alla stessa derivazione del latino Divus e non compare in latino invece il termine Asura cioè non corrisponde a niente nella lingua latina allora dicevo appunto invece nella cultura iranica tenete conto che cultura indiana e cultura iranica sono due culture sorelle cioè entrambe strettamente imparentate indoeuropee ma appartenente allo stesso gruppo potremmo dire come non so tedeschi e inglesi o tedeschi e scandinavi oppure anche come italiani e francesi e spagnoli entrambi latini o russi e jugoslavi ugualmente slavi ecco infatti si parla spesso di cultura indoiranica prendendo insieme gruppo sia dei dei popoli indiani che dei popoli iranici non tutti i popoli indiani sono indoeuropei esistono anche popolazioni preesistenti cioè con una cultura più antica e appartengono a un gruppo di lingue che non è indoeuropeo per esempio i dravidani le lingue dravidi che non sono lingue indoeuropee sono le lingue di quelli che vivevano prima dei popoli che dominavano in india prima dell'arrivo degli indoeuropei no diciamo i popoli che hanno scusate non sto ancora bene dei popoli e poi questo tempo di merda se sentite i tuoni i popoli che hanno costruito la civiltà dell'indo quella di mohen jodaro e di arappa sulle rive del fiume indo ecco quelli erano i popoli travidici poi sono arrivati i popoli indoeuropei indoiranici gli indoari il popolo degli ari che appunto si divise in un ramo in persia e l'altro in iran e l'altro in india l'iran appunto prende nome da loro perché l'antico nome del dell'iran era cioè della persia se non vado erato era si chiamava proprio arian il paese degli ariani infatti ancora oggi i mazdei tendono abbastanza identificarsi con la cultura ariana no magari qualcuno può anche sospettare qualche legame col nazismo ma chiariremo anche lì perché in realtà cioè all'inizio hitler era interessato alla religione mazdea no perché faceva questo monoteismo indoiranico ariano indo ariano sembrava fare da contrattare il monoteismo degli ebrei però quando si accorse che i mazdei predicavano la pace e la fraternanza tra i popoli allora non gli andò più ecco e soprattutto poi anche il legame fra ebraismo e mazdeismo avrebbe l'avrebbe molto urtato no perché allora risulta che fra cultura semitica cioè fra cultura ebraica e cultura ariana non c'è questa contrapposizione che molti vorrebbero far credere invece c'è una fratellanza una comunanza anche quella è una bella fregatura per i nazisti e allora riprendiamo il discorso riguardo appunto il dio aura mazda allora invece nella cultura iranica o a questo punto arianica potremmo dire e sono stati invece gli asura o meglio gli avura a trionfare e in particolar modo uno che è diventato l'unico aura supremo invece nella religione mazdea sono i deva che sono le divinità infere malvagie che si contrappongono al culto dell'ionico aura mazda e dunque e aura mazza appunto essendo dio della saggezza della sapienza e anche dio della luce e o per me lo dire essendo dio della luce che dio della saggezza perché perché la saggezza l'identificazione fra conoscenza e luce fra verità e luce è fondamentale la luce è quella che ci illumina illumina i nostri occhi illumina le cose rifletendosi sui nostri occhi ce li rivela la verità la luce illumina tutte le cose e illumina anche i nostri occhi di conseguenza la luce spirituale illumina i nostri spiriti e ci rende in grado di vedere la verità di tutte le cose allora qual è la verità che aura mazza ci rivela secondo zoroastro la verità appunto è che tutte le cose vengono da aura mazza compreso l'uomo e l'uomo e in qualche modo cioè non viene detto che immagini e somiglianze non esattamente viene detto che praticamente è il collaboratore di dio cioè è dotato dello stesso spirito creatore benevolo che ha aura mazza cioè la stessa luce che splende da ora mazza splende in noi la stessa fiamma e di conseguenza l'uomo può scegliere di o collaborare con aura mazza nella creazione nel perfezionamento del mondo oppure andare contro di esso verso le tenebre e affidarsi ai deva il culto dei deva che per zoroastro era un culto negativo perché innanzitutto perché era un culto immorale cioè che predicava la violenza o permetteva la violenza e che faceva deviare il comportamento degli uomini li rendeva violenti e irrazionali cioè intendo innanzitutto zoroastro condannava i sacrifici degli animali ancora di più i sacrifici umani però a quel tempo sembra che fossero soprattutto i sacrifici di animali cioè sacrifici di animali non solo umani la 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 maggior parte dei sacrifici dovevano essere animali non è che si parli specificamente di sacrifici umani nei nei testi religiosi del testi religiosi del mazdeismo no la condanna è soprattutto nei confronti della violenza nei confronti degli animali perché perché la natura è creazione di aura mazza la creazione in sé è buona anche se ha dei limiti perché non è ancora perfetta cioè la creazione è qualcosa che deve ancora completarsi è necessaria un'evoluzione e dunque quindi nella creazione che in sé è buona ci sono degli elementi di violenza di imperfezione di morte di distruzione e la violenza nei confronti di animali piante cioè non solo nei confronti delle persone ma anche nei confronti di animali piante e anche elementi naturali quindi inquinamento delle acque o della terra o dell'aria sono cose da condannare ugualmente sotto sotto questo punto di vista la religione mazdea si dimostra di una modernità davvero sconcertante è la prima religione ecologica che si trovi al mondo la prima religione che dice espressamente che la violenza non va esercita non va condannata solo quando è nei confronti di altri uomini di altre persone ma anche nei confronti della natura animali piante elementi naturali questo questo carattere appunto di non violenza nei confronti della natura è diventato preponderante a un certo punto nei confronti nell'ambito del maddeismo e addirittura è diventato quasi ossessivo nel senso che col tempo man mano che il messaggio di zoroastro è stato come dire come capita in ogni religione no che il messaggio iniziale del fondatore poi viene rivestito di altri comandamenti tradizioni che si appiccicano addosso al nucleo originale no e ha creato tutto una serie di proibizioni che noi leggendole ci appaiono decisamente assurde no nel senso per esempio tutte le le disposizioni perché il cadavere c'è soprattutto l'orrore nei confronti del cadavere cadavere umano in qualche modo viene visto come il massimo dell'impurità e quindi non può essere sepolto in terra deve essere dato in pasto agli avvoltori pensate un po' sotto questo punto di vista c'è un lungo discorso da fare anche se nel messaggio originario di zoroastro non sembra esserci traccia di queste pratiche no perché appunto si tratterebbe di tradizioni che si sono sono sarebbero venute dopo probabilmente comunque anche stavolta sono devo concludere perché sono discorsi molto complicati arrivederci grazie 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 grazie